Ho ricevuto anche i fiocchi, adesso dobbiamo proseguire. Perché c'è ancora una boss fight? Intanto disegno per bene, cioè ce ne sarebbero due di boss fight, però una serve per un'arma. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Cercherò di saltare tutti i mostri, perché tanto ormai qui abbiamo finito. I mostri che appaiono sono sempre gli stessi. Ok, qui disegnato, qui disegnato. Baffi di jaguaro. Allora, io qui ho visto che c'è la boss fight per la Masamune, quindi già lo so. Disegniamo per bene. Guarda che bello. Nella mappa ce lo fanno vedere qui davanti e nello stesso tempo ci dicono che non la possiamo prendere. Va bene, allora, i boss che ci sono qui sono un po' più terrificanti, quindi cercherò di andarmene al più presto. Cercherò comunque di prendere il possibile e l'impossibile. Ecco qua. Sì, si va giù. Questo è nuovo, ma fuggo, perché tanto non mi interessa. Se si può fuggire, ok. Si chiama faccia, tra l'altro. Di sopra no, andiamo qui sotto. Tra l'altro là sopra c'è l'uscita e noi dobbiamo andare qui in basso. Ecco qua. Ok, allora, qui... Abbiamo la Masamune. Il boss io so qual è, ma non so come combatte. Quindi questo qui non so nulla. Potrei non farcela, quindi... Ci provo. Ancora... Lancio il sibilante. Mi salta. Taccisua! Fammi far prima lentezza. No, dov'è? Ramu. Gia bianca. Energira. Fiamma. Adesso spero di cavare. Fiamma. Sono morto. No. Non male. Gia bianca. Energia. Energia. Su tutti. Sì. Pensavo fosse debole al tono, ma non ho idea. Magia bianca. Facciamo un guscio su tutti. Si. L'apso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Meno male. Grazie a tutti.